... nel mio ufficio e poi mi sono indirizzata verso un polidoio e cominciò ad aprire le persiane. E l'aprire le persiane, sì, le persiane, e mi sono sentita una presenza dietro di me. E ho visto il dottor Carnelletti. E il dottor... ... sono gialli... ... ma quando l'hai girata a che distanza erano? ... da qui a lì, c'è proprio pochissimo. ... l'ho chiamato tre volte, non ho una risposta. Avevo un interneale di grigio e se n'è andato niente. Sì, io sinceramente, in quel momento ho capito che forse dovevo stare in zitta, ecco, perché lui non mi ha neanche colpato, non mi ha neanche colpato lo sguardo, ecco. La difesa ha fatto presente che il suo assistito era socio dell'innova skills e quindi i fascicoli sottrati all'ufficio in realtà appartenevano esclusivamente alla sua attività funzionale e ricorda alla corte di valutare la controattenzione e le prove a favore del giusto. Infatti, mi sape già dimostrato che il fotografire in ultimi tempi era molto cambiato.